La Boutique del Mistero Il nostro canale Iscriviti Siamo riusciti ad allestire questo magnifico set professionale Infatti, come potete vedere, abbiamo una lampada molto molto Da scrivania Da scrivania Molto molto da scrivania E un microfono da quattro soldi Nel timelapse che probabilmente voi state vedendo in questo momento Potrete vedere anche come sia caduto questo meraviglioso telo nero Adesso serve uno stacco per tornare nella nostra famiglia Io direi Arrivati a questo punto della presentazione di questo nuovo format La Theatre Challenge Vi lasciamo con un assaggio in compagnia di Shakespeare e Deglio Per farvi vedere cosa abbiamo intenzione di fare nelle prossime puntate Essere o non essere Questo è il dilemma Se sia più nobile nella mente soffrire I colpi di fionda ai dardi dell'oltraggiosa fortuna O prendere e flearli Contro un mare di affanni E Contrastandoli Corre loro Di Morire Dormire Dormire Nient'altro E con un sonno dire Sonno Dire che poniamo Che poniamo fine al dolore Al dolore del cuore Grazie Per questa puntata pilota è tutto Noi ci vediamo presto con i prossimi episodi Voi iscrivetevi per non perderveli E 5000 like Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti